Nuova progettualità che la Caritas Diocesana di Andria insieme alla pastorale giovanile intende portare avanti nei prossimi anni la rifunzionalizzazione della Guardiola, l'antica residenza estiva dei Vescovi di Andria, una funzione sociale e aggregativa, cioè intendere la Guardiola come luogo di riferimento dei giovani per incontri, momenti formativi e spirituali, ma anche come spazio creativo per le varie espressioni. Giovanili, ascoltiamo. La Guardiola da residenza estiva dei Vescovi della Diocesi di Andria ha luogo di aggregazione giovanile, formazione, accoglienza. Don Mimmo, ma qual è il progetto che sta dietro la Guardiola? Il progetto che sta dietro la Guardiola è un progetto complesso, ma non per questo irrealizzabile, che affonda la sua attenzione sia nelle lettere pastorali del nostro Vescovo, ripartiamo dal centro come anche quella dello scorso anno, date loro voi stessi da mangiare, sia dall'attenzione della Chiesa Universale che ha celebrato nel mese di ottobre scorso il Sinodo Straordinario dei Giovani. Le attività sono modellate su tre direttrici che danno corpo al progetto. La prima direttrice è quella di offrire opportunità lavorative ai giovani, e questo in continuità con quanto la Carita di Giocesana già svolge ormai da più di 15 anni, con il progetto Barnaba e il progetto Policoro. Poi l'altra direttrice è quella dell'animazione dei giovani, un po' sulla falsariga dei volenti spiriti della Regione Puglia, e cioè creare un laboratorio urbano che possa vedere protagonisti proprio i giovani della nostra diocesi. E infine la terza sezione, la terza direttrice, è rappresentata dall'housing sociale e solidale, e cioè l'opportunità di offrire posti letto a giovani che per un qualsiasi motivo ne sono privi, oppure offrire l'ospitalità a persone che per motivi turistici sono in zona e che vogliono condividere un'esperienza di solidarietà. E poi per permettere alla città di conoscere questa realtà state organizzando una serie di eventi, cene solidali. Sì, la prima tappa è proprio quella dell'animazione e del coinvolgimento, anche perché si rende necessario recuperare questo immobile che da circa 30 anni non assolve più alla funzione di residenza estiva del Vescovo della diocesi di Andria, negli anni è stato trasformato adibito da scuola materna, e che da qualche anno, grazie a un comodato d'uso, la cooperativa Sant'Agostino gestisce proprio per l'animazione e per l'offerta di alcuni servizi. Ecco, noi ci siamo riproposti durante quest'estate di creare alcuni eventi simbolo proprio per avvicinarci alla cittadinanza e la cittadinanza avvicinarsi a questo immobile sia per l'animazione e godere dell'ambiente, sia anche per permettere una raccolta fondi per recuperare questo immobile che ha una sua importanza a Valenza storica e una costruzione per una parte del Settecento e sia anche per non cedere a quella lusinga del degrado che molto spesso anche con le nostre campagne si trovano a vivere. Vogliamo recuperare un immobile, ma all'interno di qual immobile vogliamo recuperare in maniera forte questa attenzione da parte della chiesa di Andria al mondo giovanile.